L'Austria chiude le frontiere e il Trentino Alto Adige diventerà la Lampedusa del Nord. Con questo slogan stamani una quindicina di esponenti della Lega Nord, con i test del segretario regionale Maurizio Fugatti e il coordinatore delle valli Isarco e Pusteria Massimo Bessone, hanno dato appuntamento ai giornalisti al Brennero per una conferenza stampa sugli inasprimenti dei controlli annunciati da Vienna lungo tutti i valli Chia Sud. E purtroppo dobbiamo dire che l'Austria fa bene, perché l'Austria difende i suoi cittadini da quello che è un presentimento che ha l'Austria che nei prossimi mesi, siccome l'Italia non sarà in grado di gestire l'immigrazione con i nuovi barconi che arriveranno con le stagioni estive, l'Austria non si fida del governo Renzi e quindi chiude le frontiere. L'Austria sta facendo come fanno i paesi al confine con la Grecia, non si fidano di come la Grecia gestisce l'immigrazione e l'Austria non si fida di come il governo Renzi non gestisce l'immigrazione perché è fallimentare su questo tema. Qui non si fa razzismo contro chi scappa dalla guerra, è stato detto, ma si vuole guardare in faccia alla realtà perché di vere persone in cerca di asilo, secondo la Lega, qui ne passano davvero poche. Oggi a Trento hanno restato 11 profughi per spaccio di droga, ok? Noi gli diamo colazione, pranzo e cena, li mettiamo al caldo la sera e questi vengono a spacciare la droga. Un anno e mezzo ci mettiamo per capire se sono profughi o meno. Bisogna accelerare, diminuire e tagliare i cosiddetti profughi umanitari, i profughi economici e ragionare solo sui profughi di guerra. In Trentino Alto Adige oggi su circa 1800 profughi presenti non c'è un siriano. Per la Lega Nord l'Italia, anziché prendersela con l'Austria che tutela i suoi cittadini, dovrebbe seguire l'esempio del governo Maroni e tornare a fare gli accordi con i paesi di provenienza e a fare i respingimenti sul mare. È imbarazzante vedere compagni rossi che vanno a piangere a Roma e se la prendono con l'Austria per quello che ha fatto l'Austria, dovrebbe essere quella che ci tutela e purtroppo ciò non accade. E questo lo diciamo con dispiacere, perché ci dispiace questo. Non vorremmo che nei prossimi mesi, se la crisi aumenterà, dover chiedere il confine Borghetto, perché no?